Condannata al pagamento di 11.000 euro al comune per aver dato dei lazzaroni ed assistenzialisti ai cittadini di Roccapietore su Facebook nell'immediato post via. Si chiude così il processo civile a carico di Laura Internicola, Bresciana coinvolta anche in un processo penale per diffamazione per questo e un altro fatto assimilabile. Quegli insulti ricevuti nel momento del maggior bisogno non erano andati giù al comune di Roccapietore che aveva presentato una denuncia contro la turista Bresciana. La donna lamentava dando degli indegni agli abitanti del paese una lentezza nel ripristino di un logo simbolo come i serrai di Sottoguda e continuato nei mesi successivi a scagliarsi contro la popolazione e gli enti locali. Il procedimento civile si è concluso in questi giorni con la condanna della donna. La condanna è esemplare perché sta a dimostrare finalmente che anche sulle pagine Facebook non si può scrivere tutto quello che si vuole ed è una cosa credo importante. Io mi sarei atteso qualcosina in più a livello di risarcimento ma prendo atto che questa è la cifra quindi nessuna polemica perché il segnale è comunque forte. I leoni da tastiera non possono scrivere tutto quello che vogliono.